Un buon pomeriggio, buon sabato e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando del bilancio regionale perché il Consiglio regionale intorno alle tre della notte ha approvato a maggioranza il documento di economia e finanza regionale, il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015, poi la legge di stabilità regionale 2020 e infine il bilancio di previsione finanziaria 2020-2022. A votare a favore la maggioranza di centrodestra contro invece si sono pronunciate le opposizioni del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle. Il servizio è di Alfredo Primante, vediamo. Un bilancio che segna un cambio di passo e con il quale sono stati affrontati i problemi risolti da anni. Così il governatore della regione Abruzzo Marco Marsilio ha presentato la manovra di bilancio votata ieri notte a maggioranza dal centrodestra con il voto contrario delle opposizioni centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Marsilio non ha risparmiato una stoccata alla precedente amministrazione regionale e quella di centrosinistra guidata da Luciano D'Alfonso parlando apertamente di casse lasciate vuote dalla passata giunta. Quest'anno c'è un bilancio che permetterà dal 1 gennaio al 31 dicembre di coprire le spese, tutte le spese prevedibili naturalmente se ci saranno emergenze, urgenze e sopravvienienze lavoreremo come è normale che sia con delle variazioni ma certo quest'anno i fondi per la cultura ci sono e ci sono dall'inizio della stagione tutte le nostre istituzioni culturali potranno programmare, ci sono i fondi per la gestione delle società e degli enti come l'aeroporto le altre aziende, ci sono i fondi per l'antincendio boschivo e per la protezione civile non c'erano quando io sono arrivato a governare la regione ed è un bilancio che contiene anche tanti soldi e tante nuove norme che riguardano il sociale e riguardano l'attenzione verso gli ultimi. Ma vediamo nel dettaglio il bilancio di previsione 2020 che nel complesso è pari ad oltre 6 miliardi di euro con spese complessive per quasi 4 miliardi e partite compensative di 2,2 miliardi di euro. Per sostenere la spesa corrente della regione è previsto un introito da tasse di circa 2,8 miliardi a cui si aggiungono 400 milioni di trasferimenti statali e 166 milioni di avanzo. Gran parte della spesa corrente è impegnata per il perimetro sanitario, oltre 3,6 miliardi, mentre 30 milioni serviranno a coprire il disavanzo presunto pregresso per gli anni 2014 e 2015. Per quanto riguarda gli investimenti i settori principali sono quello della tutela del territorio e della mobilità a cui si assegnano rispettivamente 105,98 milioni di euro, seguono i servizi istituzionali a cui sono destinati 85 milioni, complessivamente ammontano a 435 milioni i fondi per investimenti previsti nel bilancio per il prossimo anno. Dai banchi dell'opposizione PD e Movimento 5 Stelle tuonano parlando di un bilancio illegittimo. Per idem il documento è vuoto e irregolare, senza visione, indirizzo politico. Il PD respinge al bitente anche le accuse di aver lasciato le casse dell'ente a secco. E cioè noi abbiamo scelto di non partecipare a distribuzioni di ogni genere e abbiamo proposto il rifinanziamento di leggi di settore, di leggi per le opere ai comuni, da finanziare sulla base di graduatorie, opere di urbanizzazione, viabilità, danni da calamità naturali. Questo è il modo con il quale bisognava impostare il bilancio andando incontro ai cittadini, alle imprese, ai comuni e non distribuire prebente agli amici degli amici. Da parte del Movimento 5 Stelle la capogruppo Sara Marcozzi parla di fallimento del centrodestra alla prima vera prova di governo. Marcozzi rivendica d'altro canto gli emendamenti portati a casa dai consiglieri pentastellati, come ad esempio il contributo da 40.000 euro per il registro regionale dei tumori, i 250.000 euro di fondi per la vita indipendente, i 100.000 euro a favore della polizia locale e gli 80.000 euro destinati allo studio per la mitigazione del rischio idrogeologico a Lanciano. Cronaca adesso scivola per 400 metri in un canalone e vivo nonostante i numerosi traumi. È successo un uomo di 78 anni impegnato in una escursione con altri due compagni sul Monte Vettore, il rilievo più alto del massiccio dei Sibillini. L'incidente con il recupero dell'infortunato a circa 1.750 metri è avvenuto sul versante sud occidentale della montagna. Ad intervenire sul luogo è stato l'elicottero del 118 dell'Aquila, con a bordo il tecnico di elisoccorso e il soccorso alpino e speleologico Abruzzo. Recuperato per mezzo del verricello, l'uomo è stato immediatamente trasportato all'ospedale civile Mazzini di Teramo. Il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico lancia un appello a tutti i frequentatori della montagna a valutare attentamente le condizioni del terreno prima di intraprendere un'escursione. In questi giorni infatti il manto nevoso risulta particolarmente instabile e con diversi tratti ghiacciati spesso anche poco visibili. Cambiamo argomento adesso, potrebbero esserci degli sconti tariffari per i tratti A14 sui quali sono stati disposti delle limitazioni al traffico per l'inchiesta della Procura di Avellino che ha sequestrato le barriere bordo ponte dei viadotti abruzzesi, marchigiani e liguri. Il Ministero dei Trasporti e Concessionari a ieri si sono incontrati per valutare come intervenire per ripristinare una situazione di normalità. Potrebbero arrivare degli sconti sulle tariffe autostradali dei tratti della A14 interessati dalle limitazioni al traffico a causa dell'inchiesta della Procura di Avellino che ha disposto il sequestro del barriere bordo ponte dei viadotti. A far trapelare la notizia è stato il Ministero dei Trasporti che ieri ha incontrato i vertici di autostrade per l'Italia per discutere delle misure da adottare per tentare di mitigare le problematiche causate proprio dalle limitazioni al traffico e dai restringimenti di carreggiata sui viadotti abruzzesi, marchigiani e liguri. Sono state valutate, si legge in una nota del MIT, tutte le opportune e necessarie misure al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità delle autostrade attualmente interessate dalle restrizioni alla viabilità. Sulla base di tali elementi e all'esito delle verifiche in corso, continua la nota del Ministero, è stato richiesto al concessionario di adottare ogni misura utile al superamento delle criticità. Gli sconti sulle tariffe erano stati invocati ad esempio dal sindaco di San Benedetto del Tronto, uno dei comuni marchigiani maggiormente penalizzati dalle limitazioni al traffico. Autostrade per l'Italia, parallelamente alle interlocuzioni con il Ministero dei Trasporti, sta portando avanti anche una trattativa con la Procura, sottoponendo ai magistrati di Avellino, che indagano sulla sicurezza dei viadotti, i progetti esecutivi per la messa in sicurezza delle barriere bordoponte. Lo scorso 24 dicembre, tre viadotti marchigiani sono stati dissequestrati per consentire i lavori urgenti, provvedimento questo che si attendeva anche in Abruzzo, ma che non è mai arrivato. La situazione soprattutto tra Silvi e Roseto è drammatica, con lunghe code che stanno provocando da diverse settimane ormai, disagi e aumento dell'inquinamento acustico e ambientale all'interno delle città. Nel tratto in questione poi si aggiunge la problematica del viadotto Cerrano, la cui stabilità è stata messa in discussione, ragione per cui i mezzi pesanti non possono attraversarlo. Ai disagi per la cittadinanza si aggiungono le problematiche delle aziende del Terramano e della Val di Sangro in provincia di Chieti, solo in parte mitigate dall'arrivo delle festività natalizie. Se la situazione non troverà una soluzione tampone che possa ripristinare una transitabilità accettabile sulle autostrade e sulle strade statali parallele, alla ripresa pieno regime delle attività produttive, c'è il serio rischio di danneggiare anche il tessuto produttivo regionale, con conseguenze nefaste su un'economia già in difficoltà per altre ragioni. Dare voce agli invisibili di Avezzano, la battaglia di Sergio Di Cintio in favore delle periferie dei quartieri del capoluogo Marsicano. Li ho definiti purtroppo invisibili gli abitanti delle frazioni di Avezzano e delle periferie di Avezzano perché sono visibili appunto solo quando bisogna tornare al voto e quindi quando bisogna andare a chiedere i voti e quando loro devono pagare le tasse alla città di Avezzano. Li chiama invisibili gli abitanti delle frazioni e delle periferie di Avezzano costretti ogni giorno a lottare contro problemi destinati a rimanere irrisolti per via del silenzio e dell'immobilismo delle istituzioni. Sergio Di Cintio si fa portavoce delle battaglie degli invisibili portando alla ribalta problematiche serie finite nel dimenticatoio. Ultimo problema in ordine cronologico, quello dell'alta velocità lungo via San Francesco nel quartiere San Nicola alla periferia sud di Avezzano, malcontento che va ad aggiungersi a quello dei residenti della piccola frazione di Castelnuovo. Via San Francesco ha un grave problema che è quello dell'uscita della superstrada e non solo lì ma anche più avanti come anche via San Nicola è un quartiere che ha circa 5.000 abitanti quindi attenzione un grande quartiere di Avezzano purtroppo lì quando escono dalla superstrada oppure quando si immettono alla superstrada c'è un problema di alta velocità, alta velocità che ha generato molti incidenti, non c'è ancora nessuna presa di posizione da parte di nessuno per far installare almeno dei autovelox su quel tratto di strada in modo tale da far ridurre l'alta velocità. Castelnuovo invece ha un problema importante durante il maltempo che non funzionano i telefoni fissi, quindi si disattivano i telefoni fissi, non funziona la televisione, i telefoni mobili non funzionano proprio, la linea per i cellulari non c'è mai durante tutto l'arco dell'anno. Hanno un problema quindi oggettivo che è quello di dover telefonare a qualcuno per un'emergenza, diventa problematica anche quello. Quello che voglio fare io è questo, voglio rendere visibili gli invisibili dando loro la giusta voce. Il Tar del Lazio con sentenza del 20 dicembre scorso ha rigettato il ricorso del Cogevo contro l'istituzione dell'area marina protetta Torre del Cerrano. Si chiude così una battaglia legale tra Vongolare e Parco Marino che va avanti dal 2010. L'area marina protetta Torre del Cerrano è salva, anche l'ultimo ricorso al Tar contro l'istituzione del Parco Marino lungo la costa terramana è stato respinto dal Tar del Lazio. Istituita infatti con decreto interministeriale del 21 di ottobre del 2009, l'unica area protetta marina d'Abruzzo e di tutto il medio adriatico chiude il 2019 con una bella notizia e in definitiva ottenuta attraverso il respingimento del ricorso al Tar avanzato dal Cogevo, il consorzio che raggruppa tutte le imbarcazioni vongolare turbosoffianti del comparto terramano-pescarese. La sentenza del 20 dicembre scorso è l'ultima di una serie di pronunciamenti a favore della MP a partire dalla prima sentenza datata 8 luglio 2010, proseguendo con quella del 3 settembre 2014 e poi con quella del 15 settembre del 2017. Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha definitivamente respinto ogni contestazione condannando i vongolari anche al pagamento delle spese processuali a favore dell'area marina protetta e del Ministero dell'Ambiente. Da parte della MP si sottolinea in una nota dei vertici dell'area protetta, c'è stata sempre la volontà di collaborare con proposte di valorizzazione dell'operato delle turbosoffianti attraverso una riduzione dello sforzo di pesca nelle aree contigue a patto che le vongolare non entrassero nell'area marina protetta, ma tale condizione, dicono sempre dall'AMP, non è stata mai accettata dal COGEVO. Disponibilità continua all'area marina che è dimostrata dai risultati che invece si stanno registrando con un altro settore della pesca, quello degli operatori della piccola pesca artigianale che operano sia dentro che fuori l'AMP. Inoltre, conclude l'area marina protetta, lo scorso 12 dicembre c'è stata la costituzione della comunità del Cerrano Piccola Pesca, candidata al riconoscimento dello Slow Food, una formula di promozione e valorizzazione dei prodotti del mare pescati con tecniche sostenibili e compatibili in una filiera corta da attuare con i piccoli operatori della ristorazione locale che hanno aderito anch'essi alla comunità. Andiamo a Lanciano adesso, la grande arte presepiale con 70 opere dei maestri italiani sarà in mostra fino al prossimo 6 gennaio nei locali del Museo Diocesano. L'iniziativa è a cura dell'Associazione Amici del Presepio. Vediamo. La grande arte presepiale in mostra a Lanciano al Palazzo Arcivescovile Museo Diocesano fino al 6 gennaio del nuovo anno. 70 opere dei maestri del presepio italiano sono stati infatti allestiti dagli appassionati dell'Associazione Amici del Presepio, sezione di Lanciano, che nello scorso mese di settembre hanno ospitato il cinquantesimo convegno nazionale dell'Aiap. L'associazione riunisce gli appassionati del presepio di tutta Italia, fondata a Roma nel 1953, conta migliaia di iscritti. Gli scopi sono quelli di mantenere viva la tradizione del presepio, promuoverlo e diffonderlo, elevandone l'aspetto qualitativo, studiarne ed evidenziare gli aspetti storici, religiosi, artistici, tecnici, culturali ed etnografici, promuovere la conservazione e la salvaguardia dei presepi storici moderni. L'esposizione presso il Museo Diocesano è dalla rara bellezza, con la magia del presepe che si svela la città in tutto il suo fascino, un'occasione imperdibile. Il presidente Gianni Roselli. Una mostra di presepi che noi ogni anno prepariamo per il Santo Natale, quest'anno si siamo allargati un po' di più, perché a settembre abbiamo accolto nella nostra città di Lanciano, insieme in collaborazione con l'amministrazione comunale e la diocese Lanciano-Ortona, abbiamo accolto il cinquantesimo convegno nazionale dell'Associazione Italiana Amici del Presepio. E così abbiamo avuto modo di allestire questa mostra di circa 70 opere, dal presepio piccolo al presepio scenografico, al presepio diorama, di varie tipologie di presepi, dal palestinese al popolare e via dicendo. Si estende in una superficie di circa 300 metri quadri, quindi occorre molto tempo da dedicare per visitarla. E niente, è un fiore all'occhiello per il territorio frentano e noi ci teniamo che tutti lo vengano a visitare, che rimarrà un bel ricordo di questa annata storica per l'Associazione e per Lanciano. E a proposito di presepe, a causa delle condizioni meteo, lo spettacolo del presepe vivente di Cavaticchi è rimandato al prossimo 4 gennaio 2020. L'appuntamento diretto da Mario Probi si riterrà dunque sabato prossimo alle ore 18 nella piana dell'Ipratic. L'ingresso è gratuito ed è previsto un servizio navetta dalla zona industriale di Santa Teresa, di Spoltore, per evitare problemi di parcheggio. Andiamo ad Ortona, migliaia di luci addobbano la casa più luminosa ad Abruzzo, al Lidoriccio, punto di riferimento per curiosi ed appassionati. Una tradizione portata avanti da due famiglie che si ispirano alle usanze americane. Migliaia di luci a LED, ovviamente dal basso consumo, ogni anno sempre di più, centinaia i metri di cavi stesi su alberi, cancelli, ringhiere, viali, aiuole, sulle due abitazioni e poi i flash e le musiche, la figura di Babbo Natale che troneggia all'ingresso. E la casa di Babbo Natale al Lidoriccio di Ortona, lungo la stata alle 16, ormai da quasi 20 anni punto di riferimento per curiosi e appassionati di addobbi natalizi, di diritto la villa più scintillante d'Abruzzo e probabilmente anche d'Italia. Una tradizione che viene portata avanti dalle famiglie di Campli e Zulli, ispirate dalle usanze americane dove passarono l'infanzia dai migrati. Una consuetudine alla quale contribuiscono con passione ora tutti i familiari. Per circa un mese infatti le due famiglie addobbano l'enorme area da loro stesse, senza nessun aiuto, un modo per sentirsi vicine e vivere a pieno il senso del Natale tra mille luci e colori. Chiunque si trovi a passare in zona non può fare a meno di notarla e in tante si fermano per una breve sosta, una foto di rito, un selfie. Riuscito bene? Sì, perfetta, perfetta. Da dove venite? Da Avasto. Da Avasto, ma apposta per vedere questa o questa? Di passaggio? Di passaggio, ma la conoscevate però? Sapevamo di questa casa di Babbo Natale, favolosa, bellissima, complimenti a chi l'ha realizzata. Lei? No, no, veramente bella, una bella cosa, proprio lo spirito natalizio. Di respirare proprio lo spirito di Natale, è bella? Sì, è bella, è bella veramente. Già la conosceva, immagino? La conoscevo perché pure questi altri anni, insomma, ho visto che di passaggio, ho visto che è quindi... Si è fermato volentieri? La merita, sì. Che emozioni ha provato? Ma un paesaggio nordico, qualcosa di particolare, bello, bello veramente. E adesso apriamo la pagina dello sport. Partiamo con la Serie B, ultima del girone d'andata per il Pescara, che domani ospita il Chiamo Verona all'Adriatico. Calcio d'inizio alle ore 12.30 con la direzione di Baroni di Firenze. I Biancazzurri cercheranno di chiudere bene il 2019 e dare continuità alla vittoria di Livorno. Nel Chiamo Verona, invece, fuori causa lo squalificato Meggiorini, il servizio di Andrea Costantini. Il girone d'andata e l'anno solare si chiuderanno con un mattinè. Domani alle 12.30 il Pescara si congederà dal 2019 ospitando il Chiamo Verona e dovrà far capire se la vittoria di Livorno è stata casualità, magari agevolata dal momento disastroso dei Labronici, o se davvero il Delfino è uscito fuori dal tunnel della minicrisi in cui era finito dopo l'ultima sosta. Di certo il Pescara all'ardenza ha badato all'essenzialità e si è in parte snaturato lasciando il predominio del possesso palla a Livorno ma colpendo due volte in maniera chirurgica la squadra di Tramezzani, controllandone poi la sterile relazione e affidandosi anche a qualche buon intervento di Castrati nel finale. Risalta all'occhio proprio questa statistica che fa parte del credo di Luciano Zauri. Dopo la sosta il Pescara per quattro volte ha dominato nel possesso palla portando a casa due pareggi e due sconfitte. Quando le avversarie hanno avuto tale superiorità la squadra di Zauri ha pareggiato contro il Venezia ed ha vinto due giorni fa. Un aspetto dunque sul quale il tecnico di Pescina che salvo indicibili disastri nella gara col Chievo resterà sulla panchina del Pescara dovrà lavorare perché se il suo credo è avere possesso palla e fare la partita non è possibile che questo si traduca in una manovra sterile anche tenendo presente che chi ti fa palleggiare magari è anche pronto a chiudere spazi e toglierti la profondità cosa invece è concessa da Venezia e soprattutto Livorno. Il match di domani all'Adriatico oppone due squadre che hanno gli stessi punti appena al di fuori della zona playoff. La compagine Clivenze dopo la retrocessione non sta vivendo una stagione semplice e in questi alti e bassi che caratterizzano la maggior parte delle squadre della cadetteria ora è in lieve frenata come conferma la sconfitta a Casalinga col Benevento e il solo punto conquistato nelle ultime tre partite più in generale le quattro sconfitte nelle ultime sette gare. Debuttante in B dopo una gavetta in C il tecnico Michele Marcolini punta sul 4-3-1-2 nel quale brilla la stellina emergente Vignato trequartista già attenzionato da alcune big italiane e che agirà a supporto di Giorgevic e uno tra Pucciarelli e Giaccherini. Non ci sarà lo squalificato Meggiorini, Giaccherini che recuperato da problemi muscolari potrebbe trovare posto anche come Mezzala in alternativa a Segre o Garritano. In casa Pescara si spera che i battibecchi del Picchi, Zauri con Memusciai, Castanos con Crecco, siano effettivamente rimasti su quel campo e non ci siano conseguenze. Probabile che lo stesso Zauri dia conferma all'undici che ha ritrovato la vittoria con Delgrosso a sinistra, Magnero a centravanti e il trio Busellato-Palmiero-Memusciai in mediana anche se scalpita un Castanos molto positivo a Livorno che contende una maglia Busellato ma che può essere comunque utile a gara in corso. Direzione di gara affidata a Baroni di Firenze che non ha mai arbitrato il Chievo. Con il fischietto toscano il Pescara invece non ha mai perso in cinque precedenti l'ultimo in questa stagione, il 4-0 al Benevento. Il Chievo però non porta bene al Pescara che ha perso 2-0 gli ultimi quattro precedenti recenti e gli ultimi gol segnati dal Pescara al Chievo risalgono al novembre del 2000, 0-2 al Bentegodi con doppietta di Palmieri. L'ultima vittoria all'Adriatico è datata 5 settembre 1999, 2-1 con reti di Rossi, Vucoya e Cossato. In campo tra i biancazzurri anche l'attuale vice di Zauri, Davide Ruscitti. E dopo la rifinitura mattutina l'allenatore del Chiavo Verona Michele Marcolini ha presentato il match di domani alle 12.30. Lo ascoltiamo. Per la prima volta siamo fuori dai play-off quindi tutto è visto chiaramente in maniera più negativa perché è anche comunque la posizione in classifica a prescindere dai punti che poi magari ti distanziano dalla terza in classifica che sono quattro. C'è grande attesa per questa gara. Sensazioni sono positive, sono quelle di una squadra che chiaramente sa di aver fatto una buona partita ma non è contenta del risultato che è riuscito a ottenere e quindi vuole andare a pescare a riprendersi qualcosa e a riprendere magari quella corsa che qualche tempo fa sembrava così scontata ma invece così non è. Purtroppo l'assenza di Maggiorini è un'assenza pesante, è uno dei pochi leader che mi ha dato sempre continuità di possibilità di schierarlo. Purtroppo è arrivata questa squalifica forse nel momento meno opportuno. Di noia è recuperato o è recuperabile? Di noia stamattina si è allenato, con gli altri è al pari, magari è un po' di fastidio però sta bene. Ma direi che Pescara ha una buona struttura, un'altra delle squadre che a inizio anno aveva ottime ambizioni, grandi ambizioni, una squadra quadrata che chiaramente ha soprattutto in Galano e Macin, quei giocatori che gli accendono la luce e non dimentichiamoci che comunque hanno anche altri giocatori che in categoria hanno grande esperienza e insomma a me musciai su tutti, ma Busellato, Scognamiglio, insomma ci sono tanti giocatori che ci offano, sono tanti giocatori che fanno la bida protagonisti da diversi anni e quindi avranno voglia di darci un colpetto e buttarci giù ma noi cercheremo di farci valere. Scendiamo in serie D perché dopo il cambio di panchina con il ritorno di Daniele Amaolo il presidente del Pineto Silvio Brocco spiega le motivazioni della scelta di esonerare Paolo Rachini e richiamare a distanza di sette mesi l'allenatore marchigiano. Presidente Brocco, nuovo corso con Daniele Amaolo, proviamo a strapparle un sorriso, non la ricordavamo come un presidente mangio allenatori tutt'altro? No, abbiamo ritenuto di riaffidare la squadra a Daniele Amaolo, ho visto i suoi precedenti, i tre anni lui ha familiarizzato molto con noi, con la nostra società, ma non perché sia Massimo Epifani che Paolo Rachini non l'abbiamo fatto bene, l'hanno fatto, ci hanno messo tanto dell'oro, hanno sperato fino alla fine che le cose andassero bene, però abbiamo preferito riaffidare, diciamo, ecco adesso il giron di ritorno a Daniele Amaolo, guardando anche le potenzialità della nostra squadra che sicuramente non ha raccolto quello che meriterebbe sulla carta, però il calcio è una scienza inesatta sotto ogni punto di vista. Speriamo di far bene il giron di ritorno, ma noi ringraziamo i precedenti che ci sono stati, i ragazzi devono dare tanto di loro stessi e non pensare che i loro errori poi li pagano gli altri, quindi questa è l'ultima volta che a fronte di errori dei singoli poi paga l'allenatore, ma non è così, non deve essere assolutamente una cosa di questo genere. Noi ci auguriamo veramente di ritornare a sorridere, visto che abbiamo investito tanto, ci crediamo tanto, abbiamo un piacere enorme di far bene il nostro calcio, quindi ci auguriamo il bene. Possiamo dire che la sconfitta di Cattolica, ma tornando un po' indietro, l'eliminazione in Coppa Italia sono state le due ferite che hanno un po' segnato il destino di Paolo Racchino. Sì, più l'eliminazione di Coppa Italia, perché io ci credevo, credevo, sognavo già le semifinali con il Fasano, l'eventuale finale, però anche lì siamo arrivati ai rigori, lì poi è un sorteggio. Bisognava vincerla prima? Dovevamo vincerla prima, non è stata fatta, è mancato qualcosa, è cattolica, cattolica non ci aspetteravamo una sconfitta, però è venuta pure quella, ma il calcio è la scienza più inesatta che esiste al mondo, non possiamo impegnarci a essere geometrici, matematici, aritmetici, però alla fine... Conta solo il campo, e allora a proposito di campo, Daniela Maulo sulla panchina del Pineto ha all'attivo una semifinale e una finale playoff, volendo andare un po' avanti con l'orizzonte possiamo dire che fare bene i playoff è l'obiettivo che vi avete dato? Ma sicuramente, sicuramente, ci auguriamo che lui possa raggiungere gli obiettivi che noi ci siamo prefissati prima, ma auguriamoci di riuscirci. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it Prossimo appuntamento con il telegiornale alle ore 19 per il momento, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.